Da Napoli a Bari, dal Tirreno all'Adriatico, un percorso di oltre 250 chilometri tra mare, sole, nubi fraggi e tante curve. Una gara di irregolarità dove a vincere è stata la tecnologia. Sì, perché i protagonisti sono stati proprio i sistemi tecnologici a bordo della nuova Mercedes classe A, il best seller della stella che dal 1997 ad oggi ha conquistato oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo, di cui più di 350 mila solo in Italia. Giunta la quarta generazione, classe A è fonte di un'innovativa intelligenza artificiale, cuore dell'inedito sistema MBUX, un sistema di infotainment avanzato, un'interfaccia uomo-auto con cui parlare come se fosse un assistente personale, simile a Siri per il mondo Apple. Un lungo viaggio, dal Tirreno all'Adriatico, per divertirsi, giocare e testare un sistema che risponde velocemente e interagisce con una certa colloquialità. Il suo quaziente di intelligenza cresce nel tempo e con l'utilizzo, man mano che memorizza alcune nostre abitudini e preferenze per riproporcele nel momento più adeguato. Da Napoli a Bari, una long run tra i due mari. Una buona occasione per noi per testare questo piccolo gioiello, in realtà già testato in 4 anni di sviluppo e test intensivi per 12 milioni di chilometri in 4 continenti. Da Napoli a Bari, un'interfaccia uomo-auto con un'interfaccia uomo-auto con un'interfaccia uomo-auto con un'interfaccia uomo-auto.